fabbio massa in calabria come mai finalmente guarda la calabria mi è mancata un bel po noi siamo stati ospiti già qualche un paio di anni fa in maniera continuativa nelle vicinanze per un altro festival del cinema e tornare in calabria per me è sempre motivo di felicità perché poi siamo un po come i campani tutti nella stessa nello stesso affetto nella stessa disponibilità quindi è bello riabbracciarvi tutti e siamo qui per presentare il mio libro scivolare via come il vento si vede bene si è un libro che è uscito il 22 novembre scorso e che presentiamo stasera alle ore 18 alla love for music qui a terra nova da sibari e sicuramente un'esperienza per me molto gratificante ed importante perché il mio primo romanzo diffusione nazionale e sto facendo un po il giro d'italia in varie tappe per per presentarlo al pubblico e vedere nei loro occhi un po capire la reazione capire il modo di intendere questo libro e sono davvero contento perché stamattina abbiamo fatto un bel giro nelle scuole e che mi ha portato comunque ad entrare subito in contatto con i respiri dei ragazzi gli occhi dei ragazzi la curiosità dei ragazzi che sicuramente per un autore è qualcosa di gratificante prossimi progetti allora con questo libro sarò ancora in giro perché insomma lo stiamo portando come libro perché poi c'è una sorpresa da questo libro in realtà è già stato tratto liberamente tratto un film che si chiama il sole sopra le nuvole che sarà girato a marzo dell'anno prossimo e che vedrà la collaborazione con un'importante emittente radiofonica che è radio kiss kiss collaborazione con la love for music ma guarda veramente sono contento che iniziata iniziata per questo progetto ma sono convinto che andrà avanti perché trovare poi delle realtà che si impegnano realmente a portare la cultura è difficile soprattutto insomma in fase così dove mancano le sovvenzioni mancano gli appoggi da parte di amministrazione oppure comunque da privati vedere persone come fabio sposato francesco sposato che portano avanti un clima di professionalità e soprattutto di cultura non è semplice quindi sono davvero contento di potergli dare una mano nel mio piccolo insomma e cercare anch'io con loro di portare un po di cultura nei vostri luoghi Grazie a tutti